Molto rapidamente io vorrei semplicemente a nome intanto di tutte le associazioni che hanno organizzato anche quest'anno i venerdì insieme in primo luogo ringraziare tutti i relatori che hanno accettato il nostro invito anche sottoponendosi a un faticoso e lungo viaggio perdendo ore di sonno e comunque e comunque accettando con grande generosità e disponibilità di venire a Ragusa a parlarci dei temi di cui si occupano Perché abbiamo messo insieme questi tre argomenti dell'incontro di oggi, di domani e di giovedì 26 che apparentemente sembrano non avere tantissimo in comune Il tema, come sapete, è quello della condivisione il filo conduttore degli incontri di quest'anno è quello della condivisione Ci sono alcuni fenomeni che stanno cambiando rapidamente il nostro modo di pensare e di vivere e negli ultimi decenni in maniera sempre più veloce Uno di questi sicuramente è la crisi economica che stiamo attraversando Ne abbiamo parlato più volte anche negli anni passati nei nostri incontri Abbiamo ormai capito un po' tutti che non si tratta di un fenomeno passeggero di uno stringere la cinghia per un breve periodo per poi ritornare alla situazione precedente Abbiamo tutti capito che dobbiamo mettere in discussione i determinati modelli culturali determinati modelli di sviluppo ai quali ci ispiravamo per intenderci quello per cui negli edifici si stava magari con le maniche corte in inverno e con il maglioncino in estate Un altro evento che sta cambiando il nostro modo di pensare è sicuramente la consapevolezza che le risorse della Terra non sono infinite Anche questo tema l'abbiamo affrontato più volte Adesso forse tra catastrofisti ottimisti ci stiamo tutti abituando all'idea che probabilmente qualcosa non andava nel percorso che avevamo intrapreso e dobbiamo cominciare a ipotizzare un modo diverso di vivere Un altro elemento del cambiamento del nostro modo di vivere e di pensare è sicuramente quello di cominciare a pensare a una logica comunitaria Abbiamo capito che l'individualismo esasperato non paga Cominciamo a renderci conto del fatto che pensare a noi stessi come facenti parte di una comunità ci tutela maggiormente E questo non solo per motivi di ordine etico che potrebbero essere un po' connaturati alle associazioni che abbiamo organizzato questi incontri Ma perché anche in natura la comunità ha un'intelligenza collettiva che è superiore alla somma delle intelligenze dei singoli componenti Abbiamo capito infine che anche se siamo immersi in un processo di omologazione culturale globale che ci porta a pensare un po' tutti allo stesso modo L'identità specifica dei territori e delle comunità ha un'importanza che va salvaguardata e che costituisce un patrimonio aggiuntivo del quale non possiamo fare a meno Questi sono un po' tutti gli elementi che se vogliamo accomunano i tre incontri di questo secondo ciclo dei venerdì insieme Scusate se sono stato più lungo del previsto Io ringrazio ancora il nostro ospite relatore di oggi il professore Carlo Andorlini Ringrazio Davide Cilia per aver accettato di condurre l'incontro di oggi Buon ascolto a tutti Sono io che ringrazio voi appunto è stata un'occasione per cimentarmi un po' in questo tema e per pormi delle domande quindi sarò molto curioso anch'io di ascoltare il professor Andorlini Faccio anche i complimenti alle organizzazioni alle associazioni organizzatrici Perché la scelta di questo tema ha rappresentato secondo me anche uno sguardo aperto sia per estensione territoriale andare a vedere cosa succede soprattutto in territori diversi dal nostro e oltre che geograficamente la rete come vedremo è un territorio diverso sia anche per lungimiranza cioè sta già cambiando qualcosa ma cambierà qualcosa anche in maniera maggiore prossimamente nel sistema, nei sistemi economici rispetto ai sistemi economici che noi conosciamo Piccola precisazione non sono un economista insomma quindi sono un semplice non posso dire neanche neolaureato in economia però ecco proverò a porre le giuste domande al professore ecco innanzitutto una piccola introduzione sulla sharing economy entriamo nel vivo di questa di questa realtà la sharing economy chiaramente è un termine inglese che noi prendiamo da dei sistemi anglosassoni e comunque esteri che hanno avviato già da tempo questo sistema e si basa sulla appunto condivisione to share in inglese significa condividere appunto quindi si sta passando da un sistema di proprietà a un sistema di condivisione delle proprietà stiamo parlando di beni ma anche di servizi e quindi di attività di competenze dei singoli tutto questo attraverso delle piattaforme online principalmente per cui chi diciamo soprattutto è dentro o comunque le generazioni che hanno un contatto più diretto con appunto le piattaforme digitali hanno accesso sempre di più appunto questi beni e servizi è interessante per diverse ragioni appunto abbiamo parlato di crisi è una forma di risposta alla crisi non sarà la soluzione principale non sarà appunto la panacea però è una risposta alla disoccupazione principalmente è una risposta alla diminuzione del potere di acquisto come vedremo ci sono dei risparmi quindi questi benefici sono in termini sia di risparmi i prezzi e i costi di accesso a questi beni e servizi sono naturalmente ridotti rispetto ai sistemi tradizionali non solo si diminuiscono anche i costi i cosiddetti costi di transazione in economia sono anche quei costi in termini di tempo e denaro per cercare e raggiungere appunto beni e servizi in alcuni casi può diventare anche un'opportunità di guadagno parleremo anche con questo anche di questo stasera e appunto oltre che lavoro anche l'ambiente risulta appunto nel percorso di questo ciclo di incontri accresce sempre di più una responsabilità ambientale quindi ridurre sotto l'utilizzo delle risorse significa evitare la produzione di risorse in più evitando appunto che restino inutilizzate faccio giusto qualche esempio per entrare nel vivo e capire di cosa stiamo parlando quando facciamo riferimento alla Scheringer Economy per quanto riguarda i beni un banalissimo esempio potrebbe essere la piattaforma Neighborhoods sarebbe una condivisione di attrezzature quali ad esempio trapani tagliaerbe barbecue rimorchi valigie tra vicini di quartiere per farvi capire cioè vicini di quartiere persone che non si conoscono ma che condividono questi beni che non utilizzano sicuramente tutti i giorni sui trasporti ci sono diversi diversi esempi da BlaBlaCar che è un sistema in cui tu offri un passaggio dai sostanzialmente un passaggio condividi e richiedi un contributo alle spese per questo tratta di viaggio in macchina con altre persone o a tua volta puoi richiederlo chiaramente si diminuiscono i costi per chi offre il passaggio diminuiscono i costi per chi deve spostarsi ci sono anche diversi servizi tipo Cartugo invece per tratta interurbane cioè delle macchine messe a disposizione basta un'app basta un cellulare per accedervi e spostarsi da una parte all'altra della città sul settore del lavoro anche si parla di sharing economy ci sono degli spazi di co-working in cui vengono messi a disposizione strutture stampanti rete di professionisti diversi che condividono questo ambiente in maniera indipendente o anche interdipendente e svolgono lavoro anche piattaforme intellettuali cioè sostanzialmente proprietà intellettuali come musica cinematografia insomma spotify anche youtube parlo un po' per il diciamo più per i giovani in sala ecco anche sul settore dell'alimentare ci sono delle possibilità di per condividere diciamo dei veri propri pranzi e cene preparati da privati questo fa sì anche insomma si risveglia anche questo bisogno di socializzare come ricordava Roberto potrei continuare ci sono diversi esempi anche diciamo dal punto di vista della cultura e lo scambio libri insomma ci sono davvero diversi esempi ma sono curioso appunto di ascoltare anch'io il professor Andorlini che presento allora Andorlini professor Andorlini Carlo dice del tu possiamo darci del tu benissimo tutto gratuito benissimo allora ho lavorato in scienze del servizio sociale del non profit ha un'esperienza decennale come settore socioeducativo come educatore responsabile di una struttura per minori dal 2006 al 2008 è stato responsabile nazionale del settore formazione di libera a Roma dal 2008 al 2013 ma anche finora coordina dei progetti di politica ai giovani della regione toscana l'ultimo in corso appunto ai giovani sì si occupa anche di formazione e consulenza in tutta Italia in diverse realtà tra quali oltre libera anche lega ambiente arci fa parte della redazione di welfare oggi di maggiore editore e attualmente insegna disegno e gestione dei servizi sociali presso la facoltà di scienze politiche nell'unità degli studi di Firenze bene Carlo a te la parola su questo mondo bene allora ringrazio voi ma per non perdere troppo tempo dico solo grazie perché non è stato assolutamente uno sforzo sì mi sono alzato presto ma ne è già valsa la pena anche solo per il giro che mi è stato fatto fare a Ragusa quindi io sono già sono già contento sono contento invece di parlare di questa sharing economy con voi e vi spiego anche perché sono contento e come mai io mi sono messo anche a approfondire un tema di questo genere ho solo da chiedere però una cosa molto semplice si fa per alzata di mano chi oggi è arrivato qua dicendo vado a sentire che cos'è la sharing economy cioè non ne so niente mi fate un attimo tranquillamente una sorta di ecco piccolo che non ne sa niente che non è un male eh assolutamente perfetto quindi un buon numero viene a sentire per la prima volta che cos'è questa sharing allora io mi scuso perché non so come equilibrare l'aspetto diciamo un pochino più tecnico che mi è stato anche chiesto giustamente da Davide Ora di raccontare nel profondo anche che cos'è questa sharing e invece raccontarla come se fosse giustamente la prima volta e quindi entrarci piano piano quindi provo a fare una situazione di mezzo poi le vostre espressioni mi diranno se ci siamo più o meno e quindi volevo un pochino definirla proprio dal punto di vista della della presentazione di che cos'è la sharing economy detta dagli esperti così la circoscriviamo la definiamo insieme quindi per chi la sa già probabilmente è una ripetizione per chi non lo sa probabilmente invece è un entrarci in maniera corretta poi però non posso rinunciare dopo le definizioni che cerco di fare molto velocemente anche di farvi vedere farvi leggere insieme leggeremo alcuni esempi alcuni faceva già molto bene Davide e poi alcune considerazioni personali che sono la parte a cui tengo non perché le mie considerazioni siano particolarmente importanti ma perché io e qui arrivo alla cosa che vi dicevo all'inizio mi sono inserito in questa storia della sharing economy circa tre anni fa due anni e mezzo fa perché mi affascinavano alcune parole che leggevo dentro una fra tutte la comunità io sono abbastanza come dire perdonate la semplicità con cui lo dico sono abbastanza fissato con la parola comunità e credo ad avercela messa sempre nella professione che ho fatto e come avete un po' sentito parte dal sociale rimane nel sociale ed oggi insomma si esprime in un po' di maniere anche in università però per me la parola comunità ha voluto dire fare l'operatore sociale la parola comunità ha voluto dire lavorare a libera la parola comunità ha voluto dire stare dentro un'università e immaginare che le assistenti sociali che io seguo nel corso magistrale lavorino non per i singoli casi ma per la comunità questo per me è sempre stato centrale allora quando ho cominciato a sentire una narrazione così interessante come quella della sharing economy che mi diceva che al centro c'è il tema della collaborazione che è una delle parole cioè la condivisione è un'altra parola che avete utilizzato e che anche nelle presentazioni sono venute fuori in maniera molto forte io mi sono entusiasmato ho detto come mai c'è un'economia che mette al centro la comunità la collaborazione la condivisione e quindi come quando tutte le volte ci si affascina un po' delle delle prime cose che vediamo sono entrato dentro con un entusiasmo eccezionale poi devo dirvi che oggi porto osservazioni di grande positività di questa sharing economy ma anche alcuni elementi lo dicevamo anche con Davide in questi giorni o Roberto prima anche degli elementi oscuri che rendono fragile questo contenitore recente e comunque abbastanza nuovo per l'Italia quindi devo dire che nel mio percorso ho avuto un momento veramente di grande entusiasmo e oggi lo vivo credo in maniera abbastanza oggettiva come una grande opportunità che però ha degli elementi di fragilità ha degli elementi di necessaria rettifica nel corso è alternativa all'economia capitalistica questa è la sharing economy e essere alternativa all'economia capitalistica vuol dire partire già da perdenti sostanzialmente oggi per cui raccontiamo una cosa che ha uno spirito anche pioneristico rispetto a una tendenza e a una presenza di questo genere in più lo dicevate benissimo entrambi nelle presentazioni sono una persona che ha provato a seguire negli anni anche il tema della disoccupazione disoccupazione giovanile chiaramente in particolare seguita in una regione come la Toscana che ha situazioni oggettivamente migliori della Sicilia quindi vi parlo di una situazione difficile continuamente in peggioramento malgrado le cose che si sentono dire a livello nazionale ma scusate la mia sincerità io non noto questo incredibile questo incredibile miglioramento non lo noto nelle statistiche non solo nelle immagini che ho e l'ho fatto quindi in una regione che ha avuto anche delle buone intuizioni e anche buoni strumenti per cui ho visto la sharing economy come diceva giustamente Davide anche come una tra le possibilità che oggi possiamo mettere nella lista non troppo lunga purtroppo delle nuove occupazioni e quindi del nuovo lavoro e quindi un elemento che nella percentuale di disoccupazione giovanile potrebbe fare una piccola differenza quindi questa serie di passioni che ho sempre avuto professionali e personali mi hanno portato a entusiasmarmi della sharing economy in questo senso quando l'ho cominciata io uso le slide un po' per deformazione universitaria ormai e un po' perché mi aiutano a me a non uscire troppo dal filo e spero per voi ogni tanto perché vedete qualche elemento che ritrovate dietro ma insomma cerco di farlo piuttosto frontale non tanto con l'uso delle slide in maniera così specifica allora innanzitutto la sharing economy per me è questa cioè cercare di capire da che parte arriva che tipo di risultati ha cioè se è solo una piattaforma come vedremo meglio che utilizza la tecnologia moderna a me obiettivamente non interessa molto o comunque la leggo e poi cerco di limitarla a quel tipo di dimensione mi interessa molto le situazioni le cornici come la sharing economy se mi portano a una serie di elementi come vi dicevo all'inizio per esempio uno fra tutti il miglioramento della comunità in cui vivo cioè se questo tipo di esperienza è la sharing economy o un'altra ha una possibilità di migliorare il rapporto con la comunità di riferimento a me interessa per questo oggi provo a raccontarvi un po' di cose allora c'è una definizione che forse è la più corretta rispetto a quelle che potevamo che possiamo utilizzare che è questa ve la leggo così come è allora che cos'è la sharing economy è una nuova economia che attraverso lo scambio la condivisione il noleggio il prestito propone forme di consumo più consapevoli basate sul riuso piuttosto che sull'acquisto come ci diceva Davide anche prima sull'accesso al bene piuttosto che sulla proprietà sulla fiducia nei confronti dello sconosciuto piuttosto che sulla diffidenza ci piace? così se io dovessi fermare e vi saluto bella la sharing economy a parte gli scherzi questa è una definizione che a me piace molto perché la definisce bene quindi non è come dire non è distorta come definizione è una definizione assolutamente molto corretta e mette in piazza sul tappeto subito le parole d'ordine fondamentali qui ci sono tutte come vedete è chiaro che è un'alternativa all'economia attuale ma mi potreste già dire non è che la sharing economy ha inventato chissà che cosa di nuovo perché queste parole sono antiche lo scambio il prestito sono parole come dire di generazioni precedenti di situazioni di luoghi che vivevano grazie a questo tipo di situazione per cui più che di una come dire politica e di un'economia del cambiamento io la chiamo politica ed economia del ritrovamento cioè qui stiamo ritrovando finalmente alcuni elementi diceva giustamente all'inizio siamo in un periodo di grande crisi quindi è doveroso inventare qualche alternativa e questa è obiettivamente un'alternativa in cui io mi ci trovo bene questa è la definizione quindi qui dentro c'entrano tutte quelle piattaforme che già raccontava un po' Davide che in qualche maniera forse anche chi non ha mai saputo che cos'è la sharing economy oggi si approccia per la prima volta però qualche cosa in giro ha visto o nel campo della mobilità cittadina o appunto tramite queste piattaforme che raccontano di come si possa andare in vacanza e non usare il classico canale alberghiero ma scrivere al Carlo di Firenze e dire Carlo ci scambiamo la casa oppure mi dai ho saputo che te sei disponibile a dare per delle settimane una casa a Firenze questa è una situazione che credo che sia successa sempre tra le persone che avevano fiducia l'uno dell'altro questa diventa un'economia vi torna come prima definizione rispetto alla conoscenza anche per chi la sente per la prima volta ci sono cinque caratteristiche che la contraddistinguono in maniera particolare allora incoraggiano l'accesso invece della proprietà e il riuso invece dell'acquisto l'abbiamo visto anche nella definizione incoraggiare vuol dire che esistano delle forme in questo caso delle piattaforme che ti incoraggiano cioè di dai facciamolo hai bisogno di una macchina hai bisogno di un passaggio io ti dico che c'è la possibilità di avere questo passaggio capito che l'incoraggiamento è un elemento molto importante perché la nostra diffidenza è altissima quindi figurati se io vado chissà chi trovo quella casa chissà sì queste foto ma chissà poi com'è eccetera eccetera queste sono banalità ma in tutto questo si sta formando e costruendo della roba seria vera l'azienda che le offre è una piattaforma abilitatrice qui già vedete gli elementi come dire un po' discordanti no Davide innanzitutto si parla d'azienda cioè in alcuni casi la sharing economy è di fatto gestita da delle aziende e questi sono gli elementi che nella poesia di questa storia così bella cominciano a dire insomma allora che tipo di economia alternativa è se poi alla fine c'è un'azienda ed è veramente così c'è una situazione che si alterna tra situazioni virtuose e situazioni meno virtuose ed è abilitatrice nel senso che ci sono tre soggetti Carlo che cerca una cosa Davide che la offre e nel mezzo una piattaforma abilitatrice cioè dice ok Carlo te puoi andare da Davide perché io so che Davide fornisce quello di cui mi stai chiedendo cerco di essere semplice ma spero che questo serva per le persone che la sentono la prima volta e anche questo è un altro elemento importantissimo perché fino ad oggi è vissuto dove c'era fiducia c'era fiducia diretta qui viene amplificata da un soggetto che abilita questa fiducia e abilita questo rapporto tra le persone mi torna per ora terzo punto gli asset che generano valore per le piattaforme appartengono alle persone per cui io do la mia macchina e attenzione anche qui si nasconde poi quello che poi ogni persona quando ha imparato che è una bella cosa però un po' la trasforma e quindi anche su questo bellissimo sta già succedendo che qualcuno non usa più dare la propria cosa ma compra una cosa apposta per darla e quindi è come come se avesse fatto la solita situazione però il mondo è fatto così noi oggi qui se me lo permettete come come dire come patto che facciamo ci godiamo il bello della sharing economy poi il brutto ci sarà tempo di vederselo in un'altra occasione io ve lo racconto un po' ma insomma prendiamoci la parte virtuosa che è bella che è veramente importante la collaborazione è al centro del rapporto fra i pari cioè finalmente come dire ci sono rapporti orizzontali che mi permettono di andare a fare uno scambio in questo caso potrebbe essere la tecnologia e il supporto è chiaro che tutto quello che giustamente ci diceva Davide nella presentazione è fatto attraverso il nostro computer dove andiamo dentro dei siti che ci raccontano come fare una serie di azioni questo per chi è come dire non così vicino alla tecnologia non deve essere un elemento che fa subito come dire smontare l'entusiasmo per una cosa di questo genere perché la tecnologia in questo caso è fondamentale ma soprattutto è fondamentale il tipo di approccio economico che potrebbe e potrà ed è fatto anche senza la piattaforma perché di sistemi collaborativi parliamo e non esiste solo la piattaforma online quindi solamente i siti quindi anche le persone che non hanno questa attitudine o non hanno voglia di entrare dentro questo mondo non si preoccupino perché la sharing economy di fatto è molto più accogliente non solo per i technology allora qui potrei raccontarvi un po' di cose rispetto al come dire agli esempi che un po' faceva ve ne leggo un pezzettino ma solamente per capire perché poi questa è già la come dire la sharing economy che raccontiamo tutta cioè come è fatta in generale qui cosa ci dice l'economia collaborativa dove ognuno a noi può offrire un servizio un alloggio un passaggio in un'auto uno scambio di informazioni o altro ancora tutto questo può essere fatto o attraverso come dire delle forme molto prossime quindi a Ragusa si organizza una piattaforma che possa permettere lo scambio di macchine quando io non la utilizzo la può utilizzare un altro ci può essere uno scambio di denaro ci può essere anche un semplice scambio di mezzo ma potrebbe essere il garage quanti garage durante il giorno rimangono vuoti e le persone non trovano posto per parcheggiare potremmo dare il mio potrei dare il mio garage per fare un lavoro di scambio ve ne racconto così sono esempi forse anche banali ma tanto per capire un po' di che cosa stiamo parlando poi ci sono situazioni un po' più sofisticate in cui le famose aziende hanno organizzato questo lavoro in maniera molto molto sofisticata e in maniera anche molto redditizia per loro e diventa una sharing economy come dire che per quanto mi riguarda non è l'argomento di interesse di oggi ecco diciamo così se non per conoscerlo io la chiamo invece sharing economy pura un altro tipo di sharing vi faccio solo alcuni esempi qui ma veramente qui come diceva giustamente anche prima Davide di esempi ne potremmo fare già moltissimi per esempio esistono delle piattaforme una per esempio la Tabid che mette in contatto che può fare piccoli lavoretti e chi li cerca è un'invenzione dice straordinaria non l'abbiamo mai pensato lo so è vero però questa piattaforma con le caratteristiche che ci dicevamo prima l'incoraggiamento la piattaforma abilitatrice eccetera eccetera riesce maggiormente a mettere insieme i pezzi e che cosa sta succedendo che le persone disoccupate che però sanno fare bene le cose oltre a provare a ritrovare lavoro si mettono dentro questa piattaforma io so fare l'imbianchino ho del tempo in questo momento metto lì dentro il fatto che so fare l'imbianchino se di là c'è bisogno di una persona sta cercando per l'appunto una persona che gli possa verniciare una stanza ecco che le due cose vedete sono semplicissime si sposano sapete che sta succedendo qua io che insegno agli assistenti sociali perché da due anni gli assistenti sociali gli insegno la sharing economy loro mi guardano male all'inizio poi forse dopo sono un pochino più contente che sono tutte donne assistenti sociali come ben sapete la presenza maschile è bassissima gli assistenti la sharing economy ma cosa è successo di straordinario non grazie a me ma grazie a loro che dentro questa piattaforma molte persone che escono dal carcere molte situazioni che vanno ai servizi sociali che si presentano dicendo io sono una persona che ha bisogno di sussidio perché non ho risorse l'assistente sociale tra i pochissimi strumenti che ha purtroppo ad oggi uno l'ha aggiunto che è questo dice guarda intanto fai una cosa prima si diceva vai al centro per l'impiego come sappiamo il centro per l'impiego però già non funzionava poi ora penso che sia in una situazione di coma profondo purtroppo ecco loro gli dicono vai a mettere questo e che cosa succede che qualche volta straordinariamente queste persone riassumono una autostima personale e una voglia di ricaricarsi anche professionalmente grazie al fatto che qualcuno in questa piattaforma le ha chiamati vi faccio questo esempio solo per capire come una sharing economy pura come la chiamo io possa straordinariamente funzionare dal punto di vista economico e anche dal punto di vista mi verrebbe di dire di comunità appunto per le parole che dicevo e ce ne sono tanti ciao mami che tiene i bambini dei genitori in viaggio come vedete niente di nuovo è un babysitter però in questo caso funziona che io sono incoraggiato perché vedo che quella piattaforma sta funzionando vedo c'è tante persone che danno questa disponibilità mi entusiasmo e soprattutto abbasso il livello di sfiducia e guardate che questo se dovesse per caso funzionare nelle nostre comunità se a Ragusa comincia a girare la sharing economy ma non dico perché è la manna che fa cambiare il mondo chiaramente è un piccolo strumento ma si alza molto il livello di coesione sociale no? non so se siete d'accordo cioè che cosa comincia a funzionare tutto quello che in tanti anni di modelli economici per quanto mi riguarda non proprio corretti hanno disgregato cioè ora c'è bisogno veramente prima di tutto di riaggregare e questa sharing economy in qualche maniera questo lo può fare può dare un contributo quantomeno riesco a farmi seguire anche delle persone che per la prima volta insomma si approccia come vedete qui ce ne sono degli altri per esempio l'ultimo una scuola online gratuita dove gli ex docenti professori universitari o semplicemente persone competenti no no si vede da vedere in particolari materie danno disponibilità gratuita a insegnare a chi vuole istruirsi e imparare le cose niente di più normale però anche questa cominciamo a pensarla in due modi questa è una piattaforma teoricamente mondiale quindi può succedere a New York può succedere a Milano a Ragusa a Firenze eccetera ma se la cominciassimo a pensare territoriale se cominciassimo a calarci qua e a vedere che tante risorse di persone potrebbero dare volentieri la propria mano la cominciano a dare tramite una piattaforma di sharing economy e qui non c'è scambio di denaro eh si chiama sempre sharing economy ma non c'è più scambio di denaro in questo caso c'è solo scambio di competenze scambio di risorse che uno può dare in questo caso la propria professionalità e potremmo farne tanti altri ad esempio mi fa piacere farvi solo questi ultimi esempi qua quella che appunto chiamiamo un po' di addetti a lavori che girellano l'Italia sharing economy pura e sociale che è questa guardate sul cibo quante cose stanno succedendo con la sharing economy qui ce ne sono alcune le più famose ma ne stanno accadendo delle altre ce n'è una bellissima che sta accadendo in Campania che si chiama il pane sospeso e che ha messo in moto i venditori di pane i panettieri quindi in un'azione doppiamente virtuosa che è quella sia di dare il proprio il non venduto la sera abbattendo finalmente queste chiusure dell'asle che per tanti anni hanno bloccato anche questa assurdità per cui la roba doveva essere buttata via perché non poteva essere data fuori che è una cosa se immaginiamo in quintali al giorno da rabbrividire qui si è lavorato però anche dal punto di vista normativo e si è stata fatta me ne dico una comunque questi qui brevini piattaforma che si propone di mettere in contatto l'offerta di pane avanzato con la domanda di chi quotidianamente è impegnato adottare che ha fame quindi alcune organizzazioni alcune caritas in Italia stanno cominciando a utilizzare anche questa continuano a fare quello che loro già facevano quindi non abbandonano il loro status e il loro modo da agire è che con questa si arricchisce un modo in più per arrivare al risultato mi capite? anche questo può essere un elemento importante e anche qui vedete non ci guadagna nessuno per cui la sharing economy è una sharing che può dare del lavoro alle persone può far pagare meno come diceva giustamente Davide perché chi va per esempio scusate torno indietro un attimo a scambiarsi un'auto o in una casa con le piattaforme che a questo sono dedicate spende senz'altro meno e quindi molto più mercato cioè molto più persone che non potevano permettersi possono farlo i giovani non a caso non perché sono tecnologicamente più vicini ma anche perché per fare una vacanza cominciano a guardare dove possono anche spendere meno e allora quel tipo di possibilità gli viene data e poi altre Bring the Food applicazione mobile che permette di porre in contatto eventuali donatori con chi raccoglie e distribuisce gli alimenti quindi molto simile iFoodShare che pone direttamente in contatto chi desidera donare cibo con chi ne ha bisogno senza coinvolgere necessariamente organizzazioni che fungono da intermediari e via e via ok? questo come vedete è un altro elemento di sharing economy che parla molto al nostro forse mi sembra di capire anche dal cartellone che presenta questa serata e che organizza queste serate penso che tutta questa roba faccia piacere se funzionerà un giorno perché penso sia molto vicina anche all'attenzione che avete e che insomma anche le organizzazioni di cui fate parte hanno di esempio ce ne sarebbero tanti perché la sharing economy è anche tante altre cose mi diceva per me è stata una notizia felice perché non lo sapevo che Ragusa ha firmato un regolamento come amministrazione un regolamento per i beni comuni che è una situazione che sta avvenendo in altre parti d'Italia ecco io oggi vi vorrei raccontare una sharing economy che è sì quella delle piattaforme ma se gli cambiamo nome gli diciamo e diciamo che è un sistema collaborativo ecco allora lì dentro cominciamo a metterci tutto quello che riesce attraverso la collaborazione a produrre un risultato positivo che sia di scambio tra le persone che sia di appunto aiuto come avete visto che sia virtuoso come un comune che cerca di mettere nella collaborazione i beni comuni presenti in quel territorio per cui non la faccio lunga perché ce ne sarebbero tante di slide quello che io provo a disegnarvi ora nella definizione è che questa sharing economy è un'economia da tutti gli effetti dentro c'è una costellazione di presenze chi virtuose chi un po' meno di fatto però ha costruito ha ricostruito una narrazione che parla di comunità di condivisione di collaborazione per cui c'è tanto di buono lì dentro la si può utilizzare sia per lavorarci sia per migliorare il proprio servizio in questi casi come si vedeva prima è un servizio di tipo sociale quindi l'utilizzo del non venduto e del pane che va a male è fare del bene a delle persone attraverso una forma di scambio e di collaborazione ricordatevi sempre la definizione iniziale quindi può cominciare a servire a tante cose ed è una costellazione proprio in questo senso secondo me proprio in una fase anche di approccio di primo approccio che avete molti di voi è oggi interessante cominciare a pensare che c'è un qualcosa che si sta muovendo in questo senso e che sta creando questa nuova ritrovata narrazione e se punta anche alla occupazione cioè se questo può servire anche a occupare delle persone è addirittura un risultato superiore poi su questo magari ci fermiamo dopo Davide un attimo sull'occupazione giovanile magari in una fase seconda se anche volete farmi delle domande passo molto velocemente per raccontarvi un altro pezzettino di sharing economy che è questa queste parole inglesi io che tra l'altro ho una pronuncia veramente inferiore a mio figlio che ha otto anni e faccio già fatica non so se è un bene o un male avere queste definizioni inglesi perché certe volte allontanano dall'idea che sia una cosa che ci possa interessare una tra le più difficili della sharing economy è questa crowdfunding che cos'è questa non so se qualcuno di voi l'ha sentita forse qualcuno dei più giovani penso di sì al di là dei tipi di modelli che qui ci sono è la classica raccolta fondi la classica raccolta fondi dobbiamo fare una scena dobbiamo raccogliere dei soldi cosa facciamo di solito noi cominciamo a prendere il nostro telefonino telefonare all'amico Carlo Carlo ci dà una mano per questa roba la sharing economy non ha inventato al solito niente di nuovo ha solo reso molto carina molto avvincente molto affascinante la raccolta fondi tradizionale quindi le persone che pensano di avere un progetto che alla gente può interessare una struttura fatiscente in centro ci potrebbe essere anzi mi sembra di capire che ce ne sono se un ragusano comincia a vedere il fatto che qualcuno si è organizzato per chiedere 10.000 euro perché con questi 10.000 euro si riesce a ricostruire un pezzo importante della nostra Ragusa e questo lo faccio attraverso una piattaforma di crowdfunding che mi dice progetto Ragusa ricostruiamo insieme la nostra città faccio per dire ci vogliono 10.000 euro vi chiedo l'aiuto le persone dicono quanto devo dare ecco le crowdfunding le piattaforme crowdfunding riescono a essere flessibili al massimo per cui puoi dare da un euro a quanto riesci a pensare sia utile dare quindi anche tanto e le forme che sono queste ma non ci sto sopra perché andremo troppo nel tecnico ti permettono di avere come dire una sorta di restituzione nel senso che dalla banalissima restituzione del fatto che anche te farai parte di quel gruppo di persone che hai aiutato a ricostruire una cosa all'essere invece compartecipi anche dal punto di vista del beneficio che ne avrà dopo la struttura c'è una cosa bellissima che è successa a Lampedusa che come dire un'organizzazione per la prima volta proponeva non il tema dei migranti che come ben sapete voi meglio di me è stato il tema ed è il tema centrale di tutta la come dire dell'immaginario che abbiamo su Lampedusa lì hanno detto lo sapete qual è il problema più grosso dell'ampedusa non sono i migranti se di problema si parla sono i disabili perché chi c'è stato non so se ha avuto modo di vedere ma non si vede di sapere c'è una presenza di persone con disabilità in particolare fisica che hanno grandissime difficoltà a spostarsi e quindi siccome non c'è una struttura di mobilità che permette ai disabili di fare il passaggio dentro la parte cittadina più vissuta insomma tutta una serie di situazioni vanno dalla scuola questo ha creato un attimo di sorpresa dice come mai proprio a Lampedusa che invece sappiamo essere il problema più importante degli migranti questi ci tirano fuori il problema ai disabili perché hanno spiegato il motivo e che cosa hanno pensato di fare bene questa roba qui la mettiamo nella comunità cioè vogliamo dire a Lampedusani se ci danno una mano a ricostruire come dire una possibilità un servizio di mobilità che permetta anche ai disabili di partecipare alla comunità e ai servizi della comunità questo è successo tramite una piattaforma crowdfunding ci volevano 15.000 euro per fare questa cosa 15.000 euro sono stati trovati in che modo facendo più o meno un calcolo di come sono arrivate queste offerte innanzitutto sono arrivate offerte di tutti i tipi chi ha dato un euro chi ha dato 500 euro questo fa parte della bellezza di questo e poi non sono arrivati solo dai Lampedusani diciamo il 60-70% dai Lampedusani e poi molto da fuori perché la parola Lampedusa probabilmente come dire cattura molto l'italiano e quindi dice perché no gli do una mano insomma fatto sta che in 25 giorni si è aperta la piattaforma e ha chiuso il risultato quindi è raggiunto subito i 15.000 euro va raccontato questa storia ne potremmo raccontare tantissime ci sono un sacco di scuole ora che stanno facendo il crowdfunding cioè i ragazzi promuovono la ristrutturazione l'adeguamento di una struttura interna la palestra che non funziona attraverso piattaforme crowdfunding ci mettono la faccia cioè la raccontano loro attraverso dei video eccetera la cosa diventa affascinante i primi chiaramente partono sono i genitori e poi si allarga la cosa e le cose avvengono anche qui io non voglio fare il come dire rendere tutto poetico e tutto bello è chiaro che per quante ne funzionano altre falliscono anche nel crowdfunding chiaramente però quello che oggi vorrei respirare con voi è che c'è un mondo che si sta muovendo attraverso questo tipo di tecnologie e attraverso questo tipo di capacità di tradurre il modello economico ci siamo ancora? ci siete ancora? vi rubo altri 5 minuti poi facciamo noi entriamo un attimino però in che cosa di cosa stiamo parlando cioè parliamo di una cosa che coinvolge già il 30% degli italiani parliamo di una cosa che ha già trovato lavoro a un milione di giovani no non parliamo di una cosa di questo genere in questo momento parliamo di un pensiero quindi di una cultura molto importante e parliamo di una macchina che si sta muovendo qui come vedete ci sono alcuni dati dell'ultima dell'ultima mappatura che è stata fatta delle piattaforme sharing e ci dice che innanzitutto le piattaforme sono 120 in Italia quindi un numero obiettivamente basso no? non sono migliaia c'è un aumento negli ultimi due anni del 25% quindi un aumento molto alto i sistemi di crowdfunding quelli a cui facevo riferimento poc'anzi sono 82 in Italia pochi tanti non lo so sono un bel numero ma chiaramente dentro queste piattaforme alcuni ci lavorano potremmo immaginare che ci siano 200 persone che in questo momento stanno lavorando lì dentro quindi capite bene che sono numeri molto bassi ancora l'80% di queste piattaforme ha circa 30.000 utenti il restante 20% ne ha fino a 500.000 quindi se moltiplicate questi numeri per il numero di piattaforme cominciamo a capire che molte persone usufruiscono di queste piattaforme online usufruiscono di questa sharing economy e come come ne usufruiscono o perché acquistano il servizio utilizzano il servizio o perché lo danno e in questo caso sempre pensando al nostro problema dei problemi cioè l'occupazione giovanile in alcuni casi per alcuni giovani vuol dire costruire un piccolo pezzettino del proprio lavoro quindi se io riesco a trovare un'occasione per che so dare il mio scooter in una piattaforma che affitta gli scooter nella propria città e alla fine del mese riesco a guadagnare alcune centinaia di euro è un piccolo pezzettino di reddito che ho magari mi aiuta a studiare magari mi fa un piccolo spicchio di una torta che dovrò comporre in altra maniera ma io giovane in questo senso ho anche la possibilità di usufruirne quando ne usufruisco io giovane come chiunque altro risparmio non ho acquistato e in più spendo anche meno rispetto all'affitto che potrei avere quindi in questo caso non si tratta di occupazione giovanile ma si tratta di uno strumento che aiuta un pochino i giovani a star meglio nelle cose a poterle fare i giovani come altri però capite bene che questi sono un po' i numeri sono numeri bassi in senso assoluto io facevo un esempio qua sotto ma lo facevo soprattutto quando parlo con il mondo del terzo settore se facciamo un parallelo quando parliamo di sharing economy quando parliamo di un altro bellissimo mondo che è il mondo del terzo settore vediamo che i numeri esplodono qui parliamo di tutta altra cosa l'ho portato solo per dire è chiaro che stiamo parlando di una situazione che non è ancora impattante dal punto di vista e della disoccupazione e dell'impatto in generale nelle comunità ma insomma si comincia a parlare finirei con una piccola perché veramente ci sarebbero tante cose da dire sta per uscire una legge che come dire regolamenterà anche dal punto di vista del denaro che non è una cosa secondaria ma preferisco semmai se dopo vi interessa ne parliamo magari specificatamente Davide però la cosa che volevo farvi vedere è questo schema che spero sia semplice per capire che cosa allora quello che a me interessa e che spero interesse anche a voi è che tutto quello che sta avvenendo di nuovo di innovativo aiuti le comunità a star meglio perché se no parliamo di tecnicismi che non ci interessano a me se le piattaforme funzionano bene mi interessa perché dentro esiste come dire un motore che migliora la situazione delle comunità noi abbiamo quindi una comunità di riferimento Ragusa può essere una comunità di riferimento non pensiamo a una comunità come una situazione astratta Ragusa di come magari arrivate da altre parti insomma la nostra comunità è una comunità possibile dentro questa comunità cominciano a esistere tanti sistemi collaborativi che sono quelli tradizionali io non so se voi mai nessuno di voi ha fatto ha partecipato ai gas gruppo di acquisto solidale ecco il gruppo di acquisto solidale sono un'invenzione semplice reattiva rispetto alle problematiche del nostro tempo e del territorio funziona non con una piattaforma ma funziona ci troviamo in un posto e ci diamo la roba chi l'ha fatto lo sa e questo aiuta la famosa produzione a chilometro zero aiuta i piccoli coltivatori e via e via e soprattutto permette una relazione fra le persone vi torna? ecco esiste un mondo ora piano piano grazie alla sharing economy questo mondo comincia a essere tutto insieme cioè lo cominciamo a vedere tutto perché uno dei problemi più grossi è quando facciamo le cose belle è che sono piccole situazioni che non riusciamo a mettere insieme oggi grazie a questo motore della sharing economy cominciamo a vedere sì sharing economy ma anche il gas ma anche la moneta alternativa che sarebbe un altro tema interessantissimo che sta avvenendo in Sardegna in cui non si usa più l'euro ma si usa la moneta alternativa insomma se no ve ne dico troppe però tutta questa roba comincia a stare qui dentro dentro questo grande il sistema collaborativo fatto di tante cose esiste anche la sharing e tutte queste come dire questi due grandi cerchi stanno dentro uno spazio di relazione cioè le cose avvengono ricordiamoci la definizione iniziale perché c'è collaborazione condivisione fiducia nelle persone e voglia anche di creare comunità allora levo la poesia nel senso che tutto questo è molto bello ha delle situazioni molto confortanti ha delle situazioni di debolezza quello che io penso sia anche corretto dirsi oggi è che intanto per chi non l'aveva conosciuta cominciare un po' a incuriosirsi di questa roba anche da semplice cittadino chi è giovane e che ha un problema tra i problemi che è quello di dire che cosa faccio da grande cominciare a pensare che questa sharing econom può già e potrebbe sicuramente potrà sicuramente in futuro essere un pezzo di occupazione io sono drastico su questo ho seguito per sette anni le politiche giovani in Toscana per cui ho questo osservatorio è piccolo e quindi è mio nel senso che può darsi non sia come dire non rappresenta un giudizio universale io credo che il lavoro tradizionale stia per concludersi completamente rimarranno dei rivoli in cui le persone troveranno lavoro negli stabilimenti troveranno lavoro con gli orari e che ti permetteranno di avere un tempo indeterminato eccetera eccetera ma credo che questa situazione sia una situazione che si sia indebolendo e giustamente si cerca di mantenerla in piedi ma sempre con maggiore difficoltà esisterà sempre di più la possibilità di adattarsi quindi la possibilità la necessità e poi la possibilità di adattarsi a una serie di opportunità lavorative in questo caso la sharing economy può rappresentare un pezzo di opportunità non vi ho raccontato e con questo forse chiudo che un altro elemento interessantissimo della sharing economy tra i tanti esempi che abbiamo visto le piattaforme il crowdfunding c'è anche le forme in cui Davide faceva un cenno prima i giovani soprattutto si ritrovano in uno stesso luogo per lavorare anche qui mi potrete dire che arriva invece da anni e anni di lavoro anche questa non ci sembra l'intuizione del 2016 no infatti non lo è il fatto è che questa possibilità di mettersi insieme in questi luoghi che si chiamano co-working ha riaperto le possibilità a molti giovani di iniziare a lavorare o di non chiudersi nell'individualità a cui faceva riferimento Roberto all'inizio dell'introduzione cioè lavorare per conto proprio in una casa ma mettersi in un luogo che cosa fa così chiudo con questa con questa suggestione rispetto a questo nel co-working ogni persona ha una scrivania e poi una serie di servizi comuni il bar che ci deve essere sempre perché è un luogo di ritrovo una sala riunioni alcuni elementi semplici che possono essere la foto copiatrice come alcuni servizi altri e questi sono messi in comune io per la mia scrivania di solito pago 150 euro il mese io ho la possibilità però di avere tutti questi servizi ma la cosa straordinaria è che non sono studi associati per cui non è che ci troviamo tutti gli avvocati e lì facciamo uno studio d'avvocatura è che si trova Carlo che è un misto tra operatore sociale e sociologo si trova Davide che è quasi economista anche se ha detto di no si trova l'architetto che non sa come inventarsi la sua professione eccetera eccetera e tutte queste persone trovano il modo di relazionarsi non solo per stare meglio insieme ma anche perché da questo tipo di pluralità di professioni nascono anche dei lavori nuovi anche questo levando la poesia esistono dei co-working in Italia di 70 persone 70 giovani che stanno dentro un luogo e che stanno macinando lavoro nuovo e tutti stanno lavorando seppur precari seppur con partita IVA seppur con mensili come dire relativamente bassi però ce la stanno facendo in qualche maniera esistono altri co-working in cui lo spirito di relazione di collaborazione di condivisione non era vero e allora a quel punto si sono auto come dire sono morti per conto proprio chiaramente perché non esistevano quei requisiti fondamentali ecco non so quanta confusione vi ho fatto intanto vi ho fatto però una prima presentazione di tutta questa roba come avete capito forse in modo con cui mi esprimo sono un fan abbastanza forte di questa parte qua ma davvero i due elementi che vi ho forse già sottolineato in abbondanza il primo è che è la prima volta che c'è un'economia che si chiama di collaborazione e noi che siamo in questa stanza che da quello che so e che capisco abbiamo a cuore il fatto che le persone stiano insieme e stiano bene e che ci sia coesione sociale dobbiamo dargli credito a questa economia per forza secondo me primo punto il secondo è che sta creando ora possiamo dirlo dopo un po' di anni anche delle risposte e dal punto di vista del lavorativo e dal punto di vista del risparmio e in ultimo non crea le condizioni perché questa iperproduzione di cose sia illimitata perché da quando c'è la sharing economy almeno dove sta funzionando si acquistano meno cose si ributtano via meno cose eccetera eccetera e quindi anche questo secondo me è un elemento mediato sempre perché questo può anche voler dire ma allora chi produceva la roba vende meno e quindi lavora meno che è un altro punto interrogativo forte e dobbiamo dirci assolutamente però dall'altra parte c'è anche un elemento virtuoso non di poco conto cioè che riusciamo attraverso lo scambio il prestito eccetera a muovere di nuovo un'economia di tipo diverso io mi fermerei per ora grazie 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 grazie